buongiorno buon giovedì ma finalmente colore fatto fatto tardissimo va bene abbiamo già pranzato velocemente ed è arrivato shane vediamo che cosa perché siamo insieme che è arrivato tutto e non ci siano vera realtà vanno arrivano a come si dice i capelli sono infatti lunghi sono belli domani non avrò più niente perché mi si fanno poi le undine qua sotto non sono niente e non c'è bisogno di far vedere bella una persona intanto che bella finalmente abbia una custodia vecchissima numero e 50 ea mercati non ne prendo un casino di soldi bellissima bellissimissimissima dovrebbe esserci un'altra questo è un portacchiavi perché non un portacchiavi finalmente un portacchiavi funziona così non so come aspetto c'è questo si attaccano le chiavi qua dentro e poi le posso mettere dentro la custodia mamma che carino fighissimo il mio dilemma del costo intanto il colore bellissimo speriamo di sopra li vedo piccoli il sotto va bene ma comunque va bene che bello è proprio non è cosa sembra più turchesa ma è proprio verde acqua mamma che bello peccato se non viene il sopra no me lo faccio vedere lo stesso guardate che carino viene legato non lo so se mi viene spero è bellissimo vi prego fa che mi venga questo sopra che quello era piccolo ragazzi ho preso 7 euro di offerta molto molto bello poi molto piccolino mi sembra molto piccolino molto bella è molto bella ma mi sa che è molto piccolina nella proverò e vi farò sapere anche se mi serviva attillata ma forse troppo attillata vediamo qua c'è l'altra questa sicuro che mi viene anche questa è molto carina mi servivano proprio queste camicine bianche da mettere con un completo che ho comprato con quel completo verde acqua ora si usa molti questi pastelli avevo bisogno qualche camicina sotto questa anche abbondante quella è più stretta peccato perché è molto bella questa ripeto anche molto carina e lì non si dicevo l'ho presa poi ecco qua l'altra custodia qua bella anche questa molto molto carina anche questa mi piacciono molto la custodia di shane svilupperanno una dipendenza poi a proposito di custodia ho preso quelle che si mettono dietro i dischetti perché io senza quello dietro per tenere il telefono li ho presi ecco perché queste vedi abbattiamo è uguale qua non c'è proprio l'appattamento ci potrei mettere questo perché non c'è un colore che ci sta forse questo anche perché c'erano queste fantasie insomma mi ci dovrei iniziare a trovare diversamente perché io ce l'ho con la ventosa che è più comoda così non è che mi vede proprio comodissimo però forse è anche un po' più piccolino l'impugnatura così perché io poi scrivo così mi viene comodo speriamo che non si sgassano subito mi sembrano un poco leggerini leggerini vabbè proveremo poi c'è foggia telefono a coniglietto perché in questo momento io sono appoggiata sul sul pentolino quindi volevo una cosa per stare un po' più stabile il telefono che si deve montare naturalmente penso proprio non capisco come si fa perché si allunga vedete ah che tutto carino questo va qua così sicuro e poi c'è questo coniglietto e in teoria questi vengono il telefono uno e due vedete carinissimo vediamo speriamo che regge il telefono perché mi pare un po' morbido morbido però è carino poi lo proviamo poi proveremo vestitino manca il sostegno del telefono ah qui c'è le nostre cose con i vestiti ovviamente non sono molto fortunata perché i trovi sono lunghissimi io sempre con queste fantasie ok vediamo ce lo proviamo me lo volevo che ho preso una S perché è enorme me lo provo e vediamo vediamo come sta mi pare pure questo pesa qualche 7 euro lo voglio dare indosso già lo vedo che è scollato da qua vedo come perci una canottierina sotto poi abbiamo la base del telefono tutto rosa in questo in questo e dove appoggio il telefono qua direttamente su quando sono a tavola va bene sempre rosa può essere che le aspettate tanto che mi bagno sempre vabbè sono i due polsini che si mettono qua quando quando si strucca anche questi pensavo che fossero un po' più doppietti ma con un euro cosa pretendo poi che abbiamo preso le beauty blend non mi immaginavo che erano piccoline di tutte le forme sono un po' piccoline vediamo come ci trovo tutto da amiccare gli occhiali da sole che mi interessano e non poco scusate ma io devo liberarmi mentre faccio LOL si mi piacciono anche se sono grandi sono grandi non mi dispiacciono poi mi fate sapere come mi stanno bene adesso li buttiamo non ci interessa vediamo gli altri ho lo più sconclusionati dei miei non ce ne sono ah il modello è tipo così sempre grande abbastanza grande però è bello questo è finissimo ragazzi questo mi piace un sacco bello mi piace mi piace ci piace questo lo mettiamo anche qua poi ho preso qualche un froselletto non sono qualche gioiellino questo è schieno carini questi col dorato bottoncini semplici mi piacciono mi piacciono sì ho preso qualche qualcosa così questi non mi piacciono già li vedo perché li avevo visti in una maniera ma sono molto diversi da quelli che pensavo però siamo sempre lì per 60 centesimi un euro non mi posso aspettare chissà cosa l'importante è che sono leggeri e sono leggeri e sono tipo dei cuoricini con questo pancetto se può fare se può fare ci accontentiamo certo che ci accontentiamo io sono più preoccupata per il costume e il vestito questo che cos'è una collannina che carina che carina vado là che carina sì sì che carina docilla docilla sempre degli orecchini sono fissata con gli orecchini per ora mi seguo ma perché sono in piedi tanto con le cose grandi non vi do crede più nulla questi sono i video che ci piacciono e questo è lo stesso stile di quello così bello il canto è stato questi colori e invece sono leggeri e a me importa sempre questo che siano leggeri perché c'è una rommina qua ok ecco li faccio altro un paio di orecchini molto bene questo è un argento e un cuocino bello non so come si mette a fuoco qua sappiamo sempre che è però molto carino leggerissimo per come servono a me duci lucissimo anche questo e poi i acciocchi le striscette da mettere qui per fare la sfumatura e non farla andare fuori questi li volevo da un sacco perché li devo provare comunque questo è il mio haul non lo metto allora nel vlog siamo a 12 minuti haul sheen 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 avete visto comunque nel vlog la settimana scorsa che è arrivato un costume è una maglia quindi è inutile che ve li faccio rivedere questo è l'altro haul e quindi contentissima di quasi tutto voglio andare a provare le maglie vediamo come mi vengono ciao alla prossima poi ve le faccio vedere al limite nel vlog vi faccio vedere come vengono indossate le cose che ho preso e soprattutto se mi viene il costume inutile indossate come vengono indossate il movimento indossate